Moneglia, Monegia in Ligure, è un comune della città metropolitana di Genova, i cui abitanti sono detti monegliesi e la cui patrona è l'esaltazione della Santa Croce. Preziosa e nascosta, così si presenta Moneglia. Preziosa lo è già nel nome che le assegnarono i romani, Moneglia da Monile, cioè gioiello, nascosta perché per arrivarci in automobile occorre aspettare il proprio turno per entrare nella galleria che perfora la roccia. Moneglia è divisa in due borghi, un tempo separati da un fiume, corrispondenti a due parrocchie, due campanili e due magnifiche chiese. L'antico centro Ligure è racchiuso tra i due campanili di San Giorgio e Santa Croce e le due fortezze di Villa Franca e Monleone, quest'ultima però solo un ricordo. L'azzurro del mare è davanti, il verde dei monti alle spalle e nel mezzo tanti segni d'arte, come i versi eleganti e musicali di Felice Romani, librettista di Rossini, Donizetti e Bellini, e le pitture di Luca Cambiaso, grande artista di scuola manierista dai modi Michelangeleschi. Il borgo, riporta una cronaca del 1537, fu chiamato Monilia il latino, che vuol dire gioielli preziosi, per cagione dei fruttiferi e ameni colli circostanti. Il termine Monilia si riferisce dunque alla ricchezza della vegetazione, i cui frutti sono paragonati a gioielli. Nel 300 d.C., nella tavola peutingeriana, mappa stradale dell'impero romano, è citata la località Admonilia, di certo esistente già ai tempi di Cesare Augusto, come rivela e rileva anche una carta custodita ai Musei Vaticani. Nel 1051 i terrazzamenti a Ulivo erano già diffusi nella zona di Monilia, come mostra la donazione di alcuni uliveti fatta dal marchese Alberto al monastero di San Venerio. Nel 1176 è probabile la costruzione del castello di Villa Franca, per opera della Repubblica di Genova, che contendeva il territorio ai Malaspina. Nel 1290 vennero poste sulla parete esterna della chiesa di Santa Croce due maglie della catena che chiudeva il porto di Pisa, a memoria della disfatta dei pisani da parte dei genovesi. Durante il Medioevo e per tutto il 1500, Moneglia condivise infatti le sorti della Repubblica di Genova, alla quale fornì anche marinai e capitani, come in occasione della battaglia navale della Meloria del 1284. Nel 1527 nacque a Moneglia il pittore Luca Gambiaso. Nel 1828 un dipinto di Giovanni Miraglia ritrasse il poeta e librettista Felice Romani in barca davanti al castello di Moneglia, in compagnia di Vincenzo Bellini. Si tramanda che avrebbe lavorato infatti alla stesura della norma nella casa monegliese di Romani.